Un intervento, il signor Berluci. Un saluto a tutti i presenti. Sono Berluci Felice, sono del direttivo dell'AVS di Dini Chilima e ora Referente della Zona per il Consiglio Provinciale. Riporto i saluti del Presidente Marisa Gilla e tutti i consiglieri. Esprimiamo felicitazioni alla sessione di rinnovo, a tutto il suo direttivo e a tutti i soci per l'impegno profuso in 55 anni di attività. Sono davvero orgogliosi. I donatori svolgono un ruolo fondamentale per l'intera società, donano qualcosa che è molto pressionale, il sangue. Ricordiamoci, nessuna macchina è veramente in grado di produrre questo bene per la sopravvivenza di molte vite. grazie davvero di cuore a tutti voi. Vi consegno una targa e ricordo di questo anniversario. Grazie. Grazie. Signora Meri, tanto per la pronata è la moglie del Dottor Costa. Bertanetti Rossella, Bodini Puglia, Coretto Angela. Questa signora che è mia moglie, devo premiare io sicuramente, no? Bosco Vincenzo, Bosco Ilario. Bruna Mauro. Cabaniero Adriana. Cercchio Margherita, Cervello Sinisco, Fontanini e Roberta. Una giovane, non è lui. Cervello Andrea. Cervello Andrea. Costa Maglio. Cristalzo Davide. Paverato Monica. Frate Denis. Gallo Simone. Gariglio Ezio. Garretto Franco. Firattino Igor. Griffa Maria Serenza. Griffa Simonetta. la Bartino Silvia, la Gatoglia Cordelia, la Stella Vito, Leoni Davide, Lisa Cristina, Manzo Silvano, Mariosi Claudio, Marzallo Silvano, Benichiori di Esilio, Mola Massimo, Moretti Andrea, Andrea, Gatoglia, Dito e Quinto. Olivera Giovanni, Orlandini Dennis, Paradiso Antonio, Paradiso Sabonino, Paradiso Sabonino, Sulle prime non c'erano. Parola Livio, Piazza Filomena, Racca Gabriele, Riccobono Silvana, Rinaldi Giovanni, Rossetto Maria Di Destina, Rossetto Maria Di Destina, Saradino Dario, Sola Tartilla, Sola Tartilla, Barrone Giuseppe, Grazie. 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 Grazie.